Fly Technology si occupa di soluzioni per la sicurezza non convenzionale, in pratica si occupa di tutti quei sistemi di sicurezza che in ambito portuale e aeroportuale servono per migliorare la sicurezza delle arre sterili e migliorare la sicurezza delle merci e dei passeggeri. In particolare noi presentiamo delle soluzioni per il controllo non intrusivo dei container e dei cargo, sistemi che permettono di realizzare delle radiografie del contenuto dei container e dei camion e dei truck senza dover aprire sigilli, senza dover mettere mano a quello che è la merce all'interno dei container. È un sistema molto innovativo perché rispetto a sistemi tradizionali a raggi X permette un throughput e quindi una velocità di scansione molto maggiore mantenendo comunque tutte le caratteristiche importanti e tutte le caratteristiche positive della scansione a raggi X, quali per esempio il dual energy, la verifica del tipo di materiale che c'è dentro, non soltanto la fotografia in bianco e nero e anche un elevato grado di sicurezza per gli operatori che lavorano intorno a queste macchine a raggi gamma e ai conducenti dei camion che in teoria subiscono una lieve esposizione alle radiazioni. Oggi la security portuale è spesso vista come un costo che le autorità piuttosto che la dogana si deve sobbarcare per poter garantire questi livelli di sicurezza del trasporto delle merci. In realtà noi abbiamo visto che lavorando su alcuni aspetti normativi si può tranquillamente vedere questo aspetto come un'opportunità sia per i porti, sia per la dogana, sia per gli operatori del settore. Abbiamo realizzato un business case molto importante all'estero che ci fa vedere che a fronte di alcuni investimenti iniziali che anche un operatore privato può fare con delle partecipazioni pubbliche private per esempio o con dei contributi europei, permette un guadagno, una revenue su tutto quello che è la scansione quindi il mercato delle scansioni che finiscono nei documenti doganali e che permettono agli operatori marittimi di saltare determinati passaggi avere determinati privilegi a livello di velocità all'interno delle dogane e quindi di poter dare un servizio a queste persone quindi non solo un costo ma anche un servizio rivendibile e spendibile sul mercato della security internazionale. Fly Technology appunto non è soltanto un rivenditore di soluzioni, non è soltanto un sistema integrator che acquista soluzioni in esclusiva sul mercato per poi rivenderle ma ha realizzato anche dei prodotti propri, ha realizzato per esempio un sistema di ispezione video sotto scocca per i mezzi che transitano ai checkpoint, ha realizzato un sistema man down per migliorare la safety dei lavoratori nelle aree portuali e ha realizzato anche dei software proprietari per l'analisi video e la comunicazione.